Grazie. Grazie. Grazie molto gentili. Adesso mi tocca presentare, come ogni settimana, l'insuperabile, l'inimitabile coppia Lino Crispo e Bianca Solvazzo. Grazie. 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 Buongiorno. Grazie. Oh, che è quello? Che è il mio telefono? Sono qua, dove fai? Che è il mio telefono? Che è il mio telefono? Che è il mio telefono? E' quello che è? E' quello che è il mio telefono. ti avete visto? Oh madonna, non be! Adesso c'è che è passato? Io non dico che sto qui, mi devo buttare che Provenzo invece, e Provenzo è un colpo a te! Ma diavolo sai, non so se ce l'ho vero a te! Ah, non si chiude fino a 9! Ah, perché non mi hai visto, no? Non mi hai visto! Le ha fornì, e facendo la cucciuetta, che è in 1822! Sì, ma guarda, già faccia la cucciuetta, non mi ha guardato nessuno! No, non c'è qua! Ti ha guardato su a chi! Eh, beh, non be, sai che guarda allora! Ah! Ah, non si sta fino a 9! Eh, non ne hai visto! No, non ne hai visto! No, non si! Non mi hai visto! Stavo parlando con la cucciuetta, non mi hai visto! La cucciuetta? Eh! Magari la cucciuetta stava suddata! Guarda, la cucciuetta è suddata! Chi aveva suddata l'artiglieria in 3m? Ma qua su un'artiglieria, non ci viene proprio! Non ci viene proprio! Non ci viene proprio! E' accanto a me! E' accanto a me! E' all'agrire! Ti abbassi un pallonetto di Santa Lucina! Beh! Chi è che in 9 e 3 minuti si può parlare! E' così preciso! Gesù Gesù! Chi è? Chi è? Ma dov'è? Ma non ci viene questo pote? Ma non ci viene proprio! Eeeh! Che ci arrivano ai cattavi? Ci hanno forato un'artiglieria! C'è un potevano! Ehi, è ora un'artiglieria! Ah no! Non l'americano! Che la faccia nella mia priglia di nutre il paino! Non ci viene anche! Ma io non sto parlando! Ma tu che ti faccio a me! I te la�네! Tu si i tuoi mettiti con me! Li'aggiare sono libero! Si! Ho lasciato il trasì! Si gli ho fatto un cavo qui! Ho fatto un pollo! Chi è? ma guarda me tu lascia fucire, fucire, fucire il proprio ma passate per via e magari passate per per la mercatia ma non ho la parooanella però guarda che avevo la parooanella? ho la parooanella te l'hanno vista ti lhanno vista? t'hanno vista, uno d'accordo, ti lhanno vista che storia fa? ma chi mi ha visto? ha visto il nome di fede? e chi è questo? non monorato e chi è questo monorato? lasciali dopo il numero anche io solo che voleva essere ma la notte ha già capito di quale siete parlando una sera che scendendo la coppia da salta mia e quando tu volevi mangiare una spigata su e mi fermai a mangiare lo stesso vicino alla fornacea della spagaiola e mi ha mangiato lì vicino alla lampe lì ma quella fornacea della lampe? l'errochipo vado tu, vado tu, vado mai tu vuoi non mi chiamo capito a cosa e quando vuoi sapete non mi piace io non ti piace? eh no, non mi piace ma mi ha riflettuto buono eh eh perché l'altro riflettuto non mi piace ma non vieni a credere di che scarpe ortopedica io oggi mi sembra una credere di che scarpe io non ti piace a te eh eh non mi piace ma me lo carmelo mi sono come le fissature di massaggio è molto buono è molto buono è molto buono è molto buono eh e tu dici resta a me io dico a te che non mi piace sei troppo vangare, sei troppo rosso a me non mi piace che ha già fatto? questo consigliere che fa? apri tu l'uomo che te ne sai come lo pesce morto a me non mi piace ma mi hai chiesto di farci lo pesce morto? e perché? o si lo come vengo ma guarda vuol dire che la rimane in amante tu lo come la te è meglio ma la sorda glielo fai riuscire a me pure se hai capito? ecco sa che io non puro poterlo su da giudizio ma tu 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 sei strisci io non la giudizio mai se mi si potava marrare sul toto ma non ci capito? vuoi tu che buono la giusta che non mi piace hai da fornire capito? ma non hai da fornire ma non mi piace le mie 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 sono rimasto lì io faccio un uomo un uomo un uomo un uomo ma ma chi vuole qui? aspetti questo è il fatto ma come ti faccio lì? che ti vuoi? beh io non ho fatto il giusto ma devi prendere ma come ti faccio non ho fatto il giusto me e 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 Sì, 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 sì. E giurami! Do giù! Do giù! Non fa male andare alla catena! Ma è passata! Puoi passare a noi! Ah! E la giù pure quello! Noi! Ah! Non c'è te! Eh! Non c'è te! Non c'è te! Ma io ti voglio bene! Ti voglio bene! Mi ha a credere! Sai che è? Sì! E che non mi piace come puoi andare così con la camera con la pasticciola! Ma non puoi fare così! Non mi scuola in tuo quartiere! E tu resti vestiti bene! Quello vestito! Una bella camicia bianca! Una bella caravatta! Una farfalletta! Ma così non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! Ma metto la scarsa! La camera è un dubito! E vado a fare l'uomo in franco con il vestito! No! Non mi piace! Non mi piace! Vado! Vado! Ma veste legante! Ma faccio tante! Ah! Vado a scusare! Vado a scusare! Vado a scusare! Ma ti fai così! La di sciamari mo' le po' Ah! Vado a scusare! 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 Giù l'entra massa e giù si è arrugnata! 50 botticelle in un pinot per me sa dove non sono sviluppate perché ho manato fino a me sa morta ora c'è la coppola lunetta mi ha facinato un'altra suella percorrì povero così lega, forna un'altra mia ma dà che non c'è, ma dà che non c'è in te su qualche mese, certamente la piazza ma tu va volendo lo bèche? ma dove faici venerdì? come dove faici venerdì? come mò fai? con chi la voce? e ho fatto subito sacco il bèche mamma ricerai, ci sono i naboli io che ho fatto un bèche dà che hai d'angolo bèche non hai giù a bèche chi l'hai giù a bèche? hai giù a bèche? hai giù a bèche? hai giù a bèche? dà che hai d'angolo bèche? eh? dà che hai d'angolo bèche? qui? dunque signori arrivati alla fine di queste cinque puntate non mi resta che chiamare i miei collaboratori e questi grossi artisti innanzitutto la signora Bianca Sollanzo signora grazie grazie anche a lei per la sua partecipazione l'amico Lino Crispo la signora Tecla Scarano l'amico Landini vieni vieni Landini ecco 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 allora uno due tre quattro cinque persone abbiamo mantenuto ogni settimana cinquanta minuti di allegria di lacrime e di qualche canzoncina cantata da Mario Trevi io sto sempre nei vostri cuori penso e voi per me siete sempre la cosa più cara che possa esistere sulla fascia della terra dopo la famiglia io vi ringrazio a nome della signora Tecla Scarano Lino Crispo Bianca Sollanzo e gli Olandini e speriamo di rivederci la prossima volta a Canale 21 sempre con dei spettacoli degni come questo qui buona sera grazie